Alla mia destra, Niccolo Gagliazzo, un applauso, alla mia sinistra, Ryan Juli, alla tastiera, Antonella Fiani, al basso, Andrea Bedin, alla batteria, Amedeo Paolini. E' la voce Marco Pedrali. E ora vediamo se qualcuno conosce questo ritornello, ve lo farò voi, se volete, proverete a cantarlo con me. Gloria, gloria perfezioa. Ok, qua davanti vedo un po' di partecipazioni, in fondo non tantissimo, riproviamo un attimo. Gloria, gloria perfezioa. Ok, di qua sentivo meno, provateci, non importa come viene, tanto dopo lo faremo assieme, un altro ritornello. Gloria, gloria perfezioa. Forse è quello che abbiamo capito, don't all victory. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Buona situazione. Grazie. 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 Grazie.